Signor Perfetto, se ne va, saluta Venezia. Saluto Venezia, ma saluto soprattutto Venezia e della sua complessità, i cittadini, le autorità, perché mi sono sentito accolto e quindi il mio grazie è sincero e affettuoso. Michele Di Bari, giunto a Venezia marzo scorso, è già prossimo alla partenza per il suo nuovo incarico alla Prefettura di Napoli. Nei saluti odierni traccia un bilancio della sua attività veneziana, con in primo piano il suo stato d'animo rispetto alla strage del bus di Mestre. Io davvero ancora oggi esprimo la mia vicinanza alle famiglie e gli auguri di pronta guarigione agli ultimi che sono ancora in ospedale. Quindi il grande dialogo con il territorio e le sue passeggiate a sorpresa lungo Via Piave, sempre Mestre, con Venezia, dice, necessita di azioni continue con quella spinta in termini di sicurezza cui i cittadini auspicano. Perché c'è bisogno di essere non solo presenti ma fattivi, come richiede questo territorio. E con la sicurezza del territorio, con i cosiddetti COSP, anche quella stradale, i protocolli, la tutela del lavoro e non ultimo il piano migranti con l'attuazione dell'accoglienza diffusa. Anche a fine mandato non ho novità. Se non allacciarmi alle parole del presidente Zaglia, che ringrazio, il quale ha riferito che l'immigrazione è stata ben gestita. Infine, con i saluti al patriarca Moraglia, al sindaco della città metropolitana Brugnaro, ai suoi 44 amministratori e alle forze dell'ordine, l'attenzione per la parità di genere. perché questo stilicidio, questo sangue versato da parte di uomini che si trasformano in carnifici, possa avere davvero una fine.